benvenuti su cultura web tv l'emittente tematica di promozione culturale a cura dell'associazione culturale proverso per la promozione dell'arte della cultura abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi niente poco di meno che valeria zazzaretta eccomi qui ciao ciao a tutti non ci sono bisogno non c'è bisogno di presentazione perché sfogliando il curriculum intenso cioè veramente ma intenso ma fa paura ora non è quando mi è stato detto devi intervistare valeria zazzaretta io ho detto no guarda non sono all'altezza qui c'è troppa roba e che faccio adesso ok valeria grazie di essere qui grazie a te per avermi ospitata bene e faccio presente a tutti i video registrati delle nostre interviffe sono collocati poi sul canale youtube cultura web tv allora valeria è la formazione di valeria allora no ma non voglio partire no la cosa più noiosa come ti è venuto in mente come mi è venuto in mente guarda parlavamo l'altro giorno proprio con vabbè con una persona che ho conosciuto molto grande a un 90 anni un attore di 90 anni e appunto ci siamo ritrovati a parlare di questa cosa se è un lavoro che scegli che ti arriva oppure che ti senti dentro sin da quando sei piccolo ed effetti riflettendoci sin da piccola ma proprio piccolissima è una cosa che ho sempre avuto dentro senza poi ovviamente averne la coscienza ti racconto questa avevo quattro anni e piangendo a mio padre chiedevo babbo babbo perché lo chiamo babbo essendo lui marchigiano ti prego ti prego recitiamo lo spot della tronchi all'epoca vabbè c'era questo famoso spot dove ballavano a un certo punto si fermava la musica e c'erano questi due personaggi che si scambiavano delle battute quindi ovviamente a quattro anni non potevo pensare a essere attrice però è una cosa che era già innata quindi mi ricordo che ogni spesso andavo da mio padre mi vedevo 450 volte mamma ho perso l'aereo stavo lì davanti a ripetere le battute ripetere le battute però dall'altra come contrasto avevo la cosa che ero di una timidezza incredibile quindi la prima recita avevo fatto a scuola quelle diciamo quelle cose che si fanno appunto in prima elementare addirittura l'asilo forse ho ancora già la videocassetta e io scoppio a piangere e vado via mi vergognavo talmente tanto che scoppio a piangere non volevo recitare quindi comunque è un bel contrasto però è una cosa che ho sempre avuto dentro poi è arrivata dopo con consapevolezza è arrivata dopo è arrivata insomma durante l'età un po più adolescenziale verso il liceo però c'è sempre a fare ma il tronchi il tuo padre te lo comprava? sì 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 me lo comprava me lo comprava alla fine mi comprava sì dice ma povera piccolina forse sarà fissata col tronchi ma mica avrà veramente in testa la cosa che vuole recitare ma la prima cosa invece è proprio quella insomma non dico professionale ma quella che ti ha fatto comprendere che il percorso da seguire poi fosse quello allora la prima cosa è stata quando avevo 19 anni e fui scelta per fare questo lungometraggio a Torino e una cosa appunto come prima esperienza subito una cosa abbastanza importante perché era un ruolo da protagonista io non ero mai stata dietro a una macchina da presa zero quindi non sapevo davvero nemmeno chi era il direttore della fotografia niente non sapevo nulla e mi ricordo che mi ritrovai a Torino e alla fine dei dieci giorni proprio dissi io voglio fare questo cioè l'emozione che mi dà questo lavoro la scintilla proprio la scintilla l'esprimermi riuscire ad esprimermi non me lo dà nient'altro io dico sempre il lavoro più bello del mondo perché ti permette di di cambiare ogni giorno di essere sempre di dare un'emozione di far sorridere anche però eri timida quindi come hai come c'è stato il sorpasso cioè come hai fatto a superare poi quel blocco vabbè dai quattro anni ai 19 anni nel passato di tempo ma diciamo che timida sono stata poi fino ai sì sì insomma continuo delle volte ancora ad avere una mia timidezza è un qualcosa che rimane che però riesco a buttare via e a superare quell'ostacolo quando sto sul palco è una cosa che rimane che ho ancora dentro però è come se in quel momento mi piacesse invece sconfiggerla quasi no è come se facessi una lotta sì con me stessa quindi ogni volta prima di salire su un palco mi dico sempre questa famosa frase ma chi ti ha fatto fa chi ti ha fatto fa amuleti portafortuna gessi apotropai allora sì ci fa qualcosa che uno in teatro poco prima di andare in scena devo affacciarmi dietro la tendina e spiare un secondo prima e vedere mi piace vedere appunto tutta la platea per un secondo anche ma non per capire chi c'è chi non c'è devo vedere la platea in teatro e al cinema quando magari giro fammi pensare no non c'è nulla almeno che mi viene in mente poi può essere pure che c'è qualcosa ma ora non mi viene in mente certi vabbè no è straordinario perché poi ognuno ha le sue tecniche le sue cose ma c'è qualche parte in particolare perché io vedo che hai fatto tantissime cose intanto già la formazione perché avevamo detto no saltiamo comunque bello pure citarlo questo personaggio Aurin Proietti che è un nome d'eccezione comunque proveniente insomma dalle più rinomate scuole di recitazione tra cui il Dams eccetera e credo che sia stata una bella scintilla cioè lavorare con lei no? allora io con lei ho iniziato un percorso in realtà quest'anno perché volevo specializzarmi anche sulla recitazione in inglese quindi lei appunto lavora sul metodo su San Batson quindi è anche un tipo di approccio americano e quindi ho voluto appunto ampliare anche la formazione con lei io ho iniziato la formazione con il fantastico maestro di otaiuti e lui mi ha dato proprio quella 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 spinta quella tenacia diciamo che ogni insegnante mi ha poi lasciato qualcosa così come Beatrice Bracco che invece è un grandissima coach argentina quella quale ho studiato due anni che va più su appunto sul trovare te stesso sulla verità sul portare la verità sempre sul palco e poi alla fine l'attore si crea il proprio metodo nel senso delle volte funziona una cosa delle volte delle volte non funziona niente nel senso che io entro magari vado a fare un provino delle volte non pensi a nulla e funziona oppure altre volte devi fare un lavoro sul personaggio che va a fondo devi trovare ogni volta c'è una chiave diversa fondamentalmente non c'è un un segreto anche per te vale la regola che insomma devi metabolizzare completamente la personalità del personaggio che interpreti cioè devi trasformarti e diventare proprio quella persona sì il metodo Stanislavski e cose qua allora nel senso che come ti ho detto dipende ci sono delle volte che io ho bisogno veramente che magari dopo un mese dico ah ecco era così il personaggio magari ho già fatto lo spettacolo no? oppure magari ho già girato dico ah ecco delle volte invece che arriva perché quale maggiore ispirazione è la vita quotidiana quindi tu magari devi fare una persona che hai già incontrato la mattina sull'autobus e quindi prendi ispirazione da quella signora lì quindi rubi rubi un po' rubi come fa Verdone quando Verdone è il mio grande mito Verdone è bellissimo e senti un po' tra tutte queste cose che hai fatto a parte le scuole vedo la formazione incredibile sono tantissime ma televisione cinema spot teatro tanto per citare Rocco Schiavone 4 l'allieva 3 però c'è ancora prof Don Matteo 140 secondi produzione Rai cinema Torbenla Monica non piove mai che ho visto di recente bravissima il precursore Expat 2X9 e spot Birra Moretti cioè io quando l'ho visto prima con Giovanna dico ma quando e poi altri spot teatro tantissimo che penso che sia una cosa meravigliosa sì che purtroppo ora non si può fare però insomma è una di quelle cose che rimane dentro noi lavoratori dello spettacolo vogliamo andare in scena vogliamo esibirci e tra l'altro tra le cose di teatro vedo che hai aggiunto nel curriculum 2014 Beatrice bellissimo cioè io ogni tanto lo ricordo a chi mi fa intorno perché siamo riusciti a far credere che non ci fosse nessuno quando invece Caffè Sant'Angelo era gremito di gente così cioè cosa spaventosa e siamo riusciti a fare una cosa bella ci sono 14.000 non so quante tantissime l'esperienza che poi ci ha portato a conoscerci è vero abbiamo iniziato quella volta nel 2012 eccolo qua dov'è ce l'avevo Beatrice 2014 ah 2014 perlomeno quello che hai scritto tu io ci credo forse può darsi invento date creo date non è importanza tanto nessuno va a verificare cortometrario ma la domanda era ma tra tutti questi no perché c'è pure Don Matteo eccetera c'è un personaggio in particolare che ti piace veramente interpretare allora ti direi tutti tutti quanti ma ti direi che i personaggi che voglio interpretare devono ancora arrivare nel senso che c'è sempre il personaggio successivo che sarà quello che magari ti darà più soddisfazioni perché ti darà una cosa in più no tra tutti questi quello teatrale in assoluto che è quello che mi è piaciuto di più è il personaggio di schizzata che è un testo di Leonardo Ghiattarelli e mi piace perché ho fatto un lavoro lei appunto era una una barbona che aveva subito violenze violenze sessuali è stato bello perché ho fatto proprio un lavoro di svuotarmi di tutto cioè di tutto ciò che era materiale di tutto ciò che era le abitudini appunto di tutti i giorni per interpretare appunto una barbona una senza tetto questi personaggi che sono completamente diversi da te sono quelli che ti ti lasciano di più e delle volte devo dirti che ti lascia di più anche magari un personaggio che è simile a te perché perché alla fine ti aiuta a dire cavolo ma anch'io quindi anch'io sono così anch'io ho questa caratteristica qui no e magari sono cose che tu non vedi sono molto umani questi personaggi che vengono interpretati sì e poi invece assoluto l'esperienza che mi ha segnata anche di più è stata la prima esperienza televisiva che ho fatto quella di Don Matteo perché ovviamente con Nino Frassica che è stato un po' diciamo il mio quello che mi ha un po' dato accolto no sul set con lui ho capito quanto è importante proprio essere pronto a lasciarsi andare a reagire ad ascoltarsi tra due attori e poi fondamentalmente è stata la mia prima esperienza televisiva quindi mi sono divertita davanti cioè è stata bellissima ma è anche faticoso credo insomma no? poi la fine sì questo lavoro non è faticoso questo lavoro è gioia bellezza sofferenza perché comunque devi andare a scavare su delle cose dentro di te ovviamente per portarle poi in scena però io non lo trovo faticoso per me quando non lavoro è una fatica quando lavoro io sono in vacanza cioè per me è una vacanza lavorare veramente raccontaci di qualche papera di qualche cosa che è successo durante le registrazioni dai sarà successo penso insomma è umano è normale no? eh sì la perfezione poi pure noiosa dai ma la cosa buffa sai qual è? è che sul set non ti puoi fermare se il regista non dà lo stop quindi la difficoltà è riuscire ad andare avanti la cosa più incredibile che mi è successa è che è recitare con questo mio amico che è un mio carissimo amico anche lui un attore pazzesco anzi lo saluto Francesco Castiglione e siccome appunto tra di noi c'è un'amicizia bellissima dovevamo essere due fidanzati non riuscivamo a ci guardavamo negli occhi appena scattava l'azione come era una cosa scoppiavamo a riuscire a ridere in due secondi quindi era imbarazzante ma anche dovevamo trasformare la risata in serietà quindi tornavamo subito seri ma ovviamente non eravamo credibili poi mi dici quale film è che lo voglio andare a vedere sì 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 assolutamente assolutamente no c'è capitato questa è stata la prima esperienza poi c'è capitato ultimamente di lavorare insieme in un altro progetto di Marcello Maglietta che si chiama Renkli Tugli Alar Hotel un progetto molto bello in collaborazione anche con la Turchia e lì invece abbiamo dovuto improvvisare delle parti molto drammate ognuno di noi aveva dei problemi appunto ossessivi con le proprie personalità e lì invece siamo rimasti poteva succedere anche il fin di mondo ecco ti racconto cosa è successo dai eravamo dentro un bunker no? immagina sottoterra e un vero bunker un vero bunker un vero bunker ad un certo punto ad un certo punto c'era una vecchia televisione di quelle con tubo catodico esatto che non so se lo sai quelle lì si esplodono esce un fumo che è nocivo che è tossico e quindi avevamo soltanto un Chuck perché lui doveva rompere questa televisione però avevamo il regista aveva architettato tutto un metodo insomma buttala su una coperta in modo che non esplode ad un certo punto al decimo Chuck nulla butta su questo su questo play esplode ma talmente tanto che eravamo nella parte che ci siamo guardati da personaggio abbiamo detto ci siamo detti che dobbiamo fare però abbiamo sentito il fumo che usciva siamo scappati fuori non è morto nessuno però non è morto no siamo tutti saldi però è bellissimo realismo proprio puro sì della serie che vai avanti qualsiasi cosa succede vai avanti benissimo stai facendo qualcosa adesso allora adesso appunto ho finito di girare questo progetto questo lungometraggio che appunto sarà una speriamo aprirà una serie e e poi appunto ho girato delle pubblicità ho girato un cortometraggio molto bello che sta vincendo sta partecipando anche a diversi festival internazionali si chiama Stop Both Soul di Claudio Proietti un ecco due personaggi padre e figlia vabbè non vi svelo troppo perché un cortometraggio già dura dieci minuti se vi dico la trama non lo vedete però è stato un bellissimo una bellissima esperienza che mi ha dato molto e e e poi insomma eccomi qui eccomi qui mentre io faccio anche il doppiaggio ah e cosa chi doppia allora sto doppiando qualche serie Amazon Netflix sai ricordarsi chi doppia è difficile sai per quale motivo tutti mi chiedono ah chi doppia chi doppia si entra in sala veramente ora soprattutto col covid entra in sala un'ora vedi il personaggio e la fai e poi ogni giorno fai una serie diversa ieri per dirti ho girato ore mi viene da dire girato ho inciso il personaggio di di una serie che sta uscendo adesso su Netflix quindi sono però anche quella è una bella esperienza perché ti dà modo appunto di lavorare molto sull'immediatezza perché devi ovviamente percepire subito il personaggio l'attore che cosa ha provato in quel momento e riprodurlo solo con la voce che è un casino però e penso sì che insomma non sia facile neppure neppure insomma stare in una sala eh sì penso che sia una cosa complessa per quella cioè non è per niente facile doppiare poi insomma avere una voce perché lavori con la voce essenzialmente quindi insomma tutto è incentrato sulla voce mentre di solito non hai altri strumenti eh di solito nel linguaggio c'è un 70% che è tutta trasmissione a livello corporeo insomma gestualità movimenti esatto anche i silenzi bravissimo anche i silenzi in un attore fanno ti danno tanto no? e anzi forse raccontano ancora di più quindi con il doppiaggio è proprio difficile perché eh solo con la voce non hai altro non hai gli occhi non hai nient'altro devi trasmettere quell'emozione che è già stata fatta dall'attore no? però anche quella è un'esperienza molto molto divertente quello che trovo straordinario è vedere la passione che trasmetti nel raccontarlo no? si vede cioè si vive giorni fa intervistavo un musicista e aveva la stessa passione nel parlare della sua arte quindi della musica eccetera e questo è bellissimo quando una persona comunque riesce ad amare talmente il lavoro che fa la professione che svolge che riesce a trasmettere un pathos incredibile penso che non ci sia niente di più bello si si è vero guarda è un lavoro come dicevi prima mi hai chiesto mi hai fatto una domanda mi hai detto è un lavoro difficile è un lavoro difficile non quando lo fai ma quando non lo fai perché ovviamente purtroppo è un lavoro in cui deve avere tanta determinazione in cui bisogna aspettare anche molto e avere anche dei partner che siano insomma quelli giusti per lavorare sì 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 assolutamente ma non solo poi è un lavoro fatto di attese fatto di attese cioè tu fai un provi e soprattutto sempre sei sempre messo sotto l'occhio appunto del di chi ti ti deve scegliere quindi sei sempre lì a fare un esame è come se ogni giorno facessi un esame di maturità e poi ovviamente devi sempre dimostrare qualcosa quindi questa è la cosa non facile però nel momento in cui lo fai è una cosa più bella che ci sia penso che sì penso che sì senti io ti ringrazio tantissimo è fatto veramente bello ritrovarti bello anche per me che ricordavo e vabbè nella Beatrice Cenci insomma era un po' era un po' una parte drif insomma però si è fatta bravissima e vorrei conoscerti anche a livello professionale andare a vedere quello che hai fatto ho visto qualcosa già insomma e come ti dicevo il film attore bella Monica non piove mai perché ho detto voglio vedere un angolo di Roma da qui perché qui già sentire parlare romano è difficile e quindi ogni tanto mi manca però insomma ti ringrazio tantissimo spero di ritrovarti presto insomma qui con noi ringraziamo gli amici che ci seguono ricordiamo Valeria Zazzaretta attrice un curriculum che non finisce mai grazie Valeria grazie a tutti e a presto su Cultura Web TV ciao grazie